Ortigia, trasporto abusivo di turisti su Ape e Calessino, sequestrati tre mezzi. I carabinieri del comando provinciale di Siracusa, nettamente personale della Polizia Municipale e dell'azienda sanitaria provinciale, hanno effettuato controlli all'interno di alcuni esercizi pubblici per il contrasto del trasporto abusivo di turisti su Ape e Calessino. L'attività ha portato a contestare violazione amministrativa per alcune migliaia di euro a due attività di ristorazione per l'occupazione del suolo pubblico e l'installazione di pubblicità senza autorizzazione. Un terzo locale invece, a seguito di controllo fonometrico eseguito con l'ARPA, è stato sanzionato per 2.000 euro a causa del superamento dei valori limite dalle sorgenti sonore. Nel corso del servizio sono state altresì controllate 16 Ape e Calessino adebite al trasporto dei turisti e 74 persone. Tre mezzi sono stati sequestrati perché privi della licenza per il trasporto dei turisti in due casi condotti da soggetti non muniti del titolo abilitativo.